Come deve cambiare l'approccio delle banche per passare dal semplice backup a una vera gestione del dato? Oggi tutti fanno il backup, quindi prendo i dati, devo backuparli, li prendo, li metto nel cassetto e li lascio lì. So molto poco dei dati, se qualcuno mi chiede di fare un restore di qualcosa di tre anni fa, mi ci impiego due mesi per fare il restore di qualcosa, perché non so cosa devo cercare, dove lo devo cercare, dove l'ho messo. Quindi oggi questa è la situazione normale. Convol propone quella cosa che si chiama Data Information Management, ovvero noi indicizziamo tutte le informazioni prima che vengono backupate, quindi oltre a conoscere il dato, conosciamo l'informazione che sta nel dato, ovvero chi ha creato quel dato, che sia un email, un report di applicazioni, di produzione, tutti i dati che vengono prodotti dalla mia azienda vengono indicizzati, quindi conosco chi l'ha costruito, quando è stato costruito, cosa c'è dentro, addirittura il testo. Quindi se io devo fare una ricerca per Rodolfo Falcone, la posso fare con un web browser tipo Google e in minuti ho le informazioni che mi servono. Provate a immaginare all'audit o alla risorsa umana di una grande banca che è un contenzioso con un dipendente, deve prendere tutte le informazioni disponibili in azienda con questo dipendente. Con noi, con due click, riescono a recuperare tutto. Tutte le informazioni, quindi l'Information Management, a cosa serve al di là del capo dell'IT per capire che cosa ho in casa? Ma serve alle varie line of business, quindi alle azioni umane, al marketing, alle vendite, all'amministrazione, all'amministratore delegato. Tutti devono poter usare le informazioni che stanno all'interno dei miei dati e non avere solo la consapevolezza che ho i dati storati.